Allora, siamo qui con Francesco Michelotti, candidato sindaco per la lista civica Insieme Poggi Munzi. Ciao Francesco. Ciao. Partiamo come nostra consuetudine con una presentazione tua personale e con una piccola introduzione sulla tua passione eventuale per il calcio e in particolare per il calcio locale, nello specifico anche per il Poggi Munzi. Sì, intanto grazie di avermi ospitato e avermi invitato. Su di me due parole brevi, 31 anni, faccio l'avvocato di professione, la questione vera è per il calcio fin da bambino, ho militato nelle due squadre cittadine, prima nella Virtus Poggi Munzi da quando avevo 7-8 anni, pulcini esordienti giovanissimi, poi sono approdato all'UPP Poggi Munzi e quindi fino a 18-19 anni, poi per motivi di studio dall'università ho lasciato per scelte personale. Però è chiaro che il calcio è rimasto la mia grandissima passione, seguo attualmente il rapporto con il calcio locale è sempre stato sicuramente un rapporto forte. Io ricordo bene la prima volta che mio nonno, che purtroppo è venuto a mancare due anni fa, mi portò allo stadio qui a vedere il Poggi Munzi, mi ricordo il Poggi Munzi di Cecchini, di Menchetti, di Sbrega, Poggi Munzi, quei bellissimi tempi che mi è rimasto nella mente a tantissimi anni di distanza, credo sono passati quasi 24-25 anni fa, si sta parlando un po' meno, forse un po' meno, facciamo male. Si sta parlando anche di un periodo a un'altra epoca, però è un periodo che mi ha segnato e quindi da quel momento, da quei miei pomeriggi di domenica con mio nonno, io ho maturato sicuramente un affetto nei confronti di questa squadra. Devo dire, mio malgrado, e poi sono rimasto anch'io vittima purtroppo del calcio moderno e quindi della pay tv, del calcio a pagamento e quindi purtroppo come molti di noi la comodità del divano prevale troppo spesso su quello che poi l'ambiente stadio, anche se devo riconoscere che il clima che si respira nello stadio, qualunque esso sia, dovunque tu vada, è un clima insostituibile, impareggiabile, ineguagliabile. Beh, diverso. Quindi assolutamente diverso, il calcio per chi lo ama, per chi ha una passione vera come la mia, io non lo nascondo, è noto che sono un tifoso della Juventus a livello nazionale per cui è chiaro che non faccio mistero di questo, però è chiaro che seguo il calcio in tutte le sue manifestazioni, dal calcio internazionale, tutto quello che posso vedere, che la mia fidanzata mi permette di vedere, mettiamola così, lo vedo e quindi ha anche il calcio locale che seguo quando posso e ovviamente allo stadio la mia presenza non è una presenza assidua, però segue il Poggio Monzi e purtroppo anche nelle vicissitudini recenti che ci hanno visto purtroppo. Sì, infatti arriviamo subito alle notte dolenti che sono quelle di carattere sportivo purtroppo del Poggio Monzi che domenica scorsa è retrocesso matematicamente in CLD, il futuro non sembra roseo assolutamente con il presidente Pianigiani che da tempo dichiara di voler andare via in caso di retrocessione, retrocessione che è avvenuta, quindi diciamo questo spettro di dover eventualmente trovare una nuova società o nella peggiore dell'ipotesi dover ripartire dalle categorie inferiori come è già successo ai noi qualche anno fa è molto forte, è chiaro che ci aspetterà un'estate molto calda, il nuovo sindaco si instaurerà a breve, quindi è un tema che sicuramente sarà molto caldo per il nuovo sindaco. Quindi diciamo che sul tavolo del sindaco ci dovrà essere anche il Poggio Monzi. Su questo vorrei una tua opinione in generale anche su eventualmente come affrontare la situazione Pianigiani in caso dovesse lasciare. Sì sì, io dico allora intanto credo che per troppo tempo e per troppi anni sul tavolo del sindaco e dell'amministrazione non c'è stato la questione Poggio Monzi, squadra locale, sport e calcio in generale e questo sicuramente lo abbiamo visto perché la retrocessione è un risultato figlio non soltanto della gestione Pianigiani o comunque di tutto quello che è accaduto in quest'anno, ma anche di un'assenza colpevole dell'amministrazione. Dunque per quanto riguarda la domanda, nell'analisi di quello che è stata la stragione è chiaro che dobbiamo fare chiarezza e il Presidente Pianigiani ci deve dire subito quello che ha intenzione di fare. A questo proposito approfitto anche dell'invito per dire che noi come il Dista insieme Poggio Monzi abbiamo chiesto e chiediamo anche in questa sede un incontro con il Presidente Pianigiani, quantomeno per chiarire un po' gli aspetti sul futuro perché non è che ci vergogniamo di dire che siamo preoccupati e anche io come candidato al sindaco, visto il candidato a governare e amministrare la città, vogliamo chiarezza sul futuro, quindi tanto capire cosa ha intenzione di fare, se lascia, se resta, ma soprattutto se rimane o chi verrà, capire qual è il progetto perché non basta dire sì vabbè tiriamo avanti in un modo però così alla giornata, noi dobbiamo, visto che la retrofessione è comunque qualcosa di purtroppo di importante, dobbiamo fare conti con una retrofessione che ai noi dico, mi permetto di dire, forse è annunciata perché abbiamo visto la stagione come è andata, io ho visto nel mercato abbiamo seduto, se non sbaglio, Pera che comunque era uno forse più forte, quindi sicuramente, senza dubbio, a livello tecnico, il tasso tecnico sicuramente era molto basso e quindi diciamo che era purtroppo nelle previsioni che potrebbero stare, cioè da capire quanto sia stata voluta questa retrofessione dalla società, dico anche per quello che mi obbede è che ho visto un'amministrazione comunale troppo assente rispetto a quelle soli del calcio e della squadra locale, ma non da quest'anno ma da diversi anni ormai vedo che questa società, il calcio locale è visto non come una risorsa o come un'opportunità come secondo me è o dovrebbe essere, ma come un fastidio, come un qualcosa che purtroppo è lì e che dobbiamo in qualche modo gestire. Ecco ora non so se ti riferisci nello specifico a qualcosa, il tema sicuramente più spinoso degli ultimi mesi riguardo il rapporto tra l'amministrazione comunale e questo è quello relativo all'impianto dello Stefano Lotti, lo stesso Presidente ha denunciato più volte una mancanza di forte interesse dell'amministrazione sul voler risolvere questo problema e anche questo sarà sicuramente un argomento da affrontare per il nuovo sindaco, sia per la convenzione che per forza di cose deve essere rinnovata di anno in anno, sia perché comunque questo stadio in una ipotetica Lega Pro Unica, che non ci vedrà il prossimo anno ma magari ci potrebbe vedere protagonisti in futuro, sicuramente questo stadio non potrebbe essere disputato, questa è una certezza. Quindi ecco, pensiero da parte tua anche su, proprio nello specifico sulla struttura, Stefano Lotti e su tutti i progetti futuri. Quando parlo dell'assenza dell'amministrazione non mi riferisco ovviamente al fatto che l'amministrazione comunale debba andare a ingerire nelle scelte tecniche o tante, mi riferisco proprio alla questione del calcio in generale e quindi a toccare con mano poi quelle che sono le strutture. L'ammodernamento dello stadio è una questione, è la questione centrale, è la questione, è il problema, perché i soldi, noi ci diranno, i soldi ce l'hanno detto, ce lo diranno anche in questa campagna elettorale, non ci sono, non ci sono stati, non è vero, perché i soldi ci sono stati, c'erano, ora ce ne sono molti meno, ma sono stati spesi altrove, perché sono state fatte altre strutture sportive, sono state fatte tante altre cose e quindi diciamo lo stadio non è stata ritenuta una priorità da parte dell'amministrazione occidente. Quindi questo è un risultato, è pacifico, è un oggettivo, non è un'opinione. Credo che il rilancio di una squadra locale passi necessariamente per l'ammodernamento della struttura. Quindi ora noi siamo alle prese con una struttura che risente sicuramente di una mancata manutenzione, quindi dobbiamo iniziare in qualche modo a mettere le toppe, però dobbiamo fare un ragionamento più, nel lungo periodo, un ragionamento più di ampio respiro, perché se noi vogliamo una squadra e avere l'ambizione di avere una squadra cittadina che nel medio e lungo periodo possa ambire a qualcosa di più, questo passa sicuramente per l'ammodernamento dello stadio. Io non voglio fare, come dire, però la Juventus ha aperto un filo negli ultimi tre anni di vittorie, secondo me, non tanto e non solo per quello che ha saputo fare a livello tecnico-tattico, ma anche perché ha investito nella struttura, lo stadio di proprietà, sono capito che lo Juventus Stadio rappresenti un pezzo importante nel cammino che quella squadra ha fatto e così come anche da tante altre squadre, credo in Germania, questo rappresenta un po' la regola, per cui io dico, non ovviamente lo stadio di proprietà è inimmaginabile in questa fase, però un'amministrazione comunale, un'assessore allo sport che fa un piano anche nelle opere pubbliche e decide in modo chiaro, in modo serio, ragionando con la società, con i tifosi, di amodernare la struttura, questo secondo me va nella logica e nell'ottica di un rilancio di tutta la società. Quando dico amodernare la struttura, dico che non si può pensare soltanto allo stadio come spollatorio campo, ma in una struttura dove ci siano negozi sportivi, il marketing, le sedi delle associazioni di tifosi, le sedi delle associazioni sportive, insomma una cittadella dello sport in piena regola che in qualche modo possa finalmente rilanciare qualcosa che purtroppo ai noi in questo momento è flebile, è quasi morto. Certo, a proposito di questo, Pianigiani in persona ha sostenuto più volte di aver presentato lui stesso un progetto di questo tipo, è un progetto che tra l'altro io ho anche visto con i miei occhi, devo essere sincero, quindi sicuramente non si è inventato nulla, poi non sappiamo bene che fine abbia fatto questo progetto dopo la presentazione dell'amministrazione comunale, c'è stato anche uno scambio di articoli di giornale, interviste non propriamente benevole fra il vice sindaco Nutella, che è anche l'assessore dello sport e Pianigiani a suo tempo e andava proprio in questa direzione qui, quindi pensi che sia questa la strada da percorrere, cioè una struttura da rivalorizzare, un'area da rivalorizzare in questo senso, sì e credo che l'amministrazione comunale si debba fare parte dirigente non solo nell'accompagnare la società, ma proprio nel promuovere, cioè nel promuovere dico e magari percare anche altri investitori, perché l'assessore dello sport, il vice sindaco, è stato inerte nella gestione, si è limitato a gestire e a tenere buono il presidente e la società dei tifosi, questo perché? Perché questo ambiente è visto non come un'opportunità ma risorsa, ma come un fastidio, un qualcosa che va gestito perché ci sono anche loro e quindi dobbiamo gestire anche loro. Noi crediamo che invece, siccome lo sport rappresenta il calcio nella fattispecie, una delle industrie più importanti a livello nazionale perché intorno a questo mondo ruotano soldi, ruotano opportunità, sponsor eccetera, è chiaro che un'amministrazione che ragiona in questa fase diciamo di bacche magre, questa fase in cui la crisi purtroppo ha colpito anche le nostre aziende, il nostro territorio, lo sport, il calcio rappresenta un'opportunità indiscussa. Quindi l'amministrazione deve agire, fare un tavolo, abbiamo proposto anche nel programma un tavolo permanente tra una società, tifosi e l'amministrazione comunale, non un tavolo che si riunisce soltanto quando c'è la retrocessione, quando c'è un problema, il tavolo deve essere permanente. Non in caso di emergenza. Non in caso di emergenza, è un tavolo permanente in cui l'amministrazione convoca le parti, i soggetti e cerca di promuovere appunto queste situazioni. Parlami di investimenti e questa è un'altra nota dolente, quest'anno la mancanza dello sponsor dell'MPS che ci ha permesso per anni di mantenere il calcio professionistico a Poggi Monzi non fa mancare, infatti abbiamo subito visto il risultato. Pensi che in futuro a breve termine o a medio o lungo termine ci possa essere spazio per una riapertura di MPS in questo senso, sull'OS Poggi Monzi o in generale comunque sulle sponsorizzazioni sportive che al momento sono, per quanto ne so, bloccate o comunque altre possibilità anche al di là di MPS di sponsorizzazioni di aziende o istituti di credito che possono essere interessati a veicolare la propria immagine attraverso il calcio. Allora io credo che la maglia del Poggi Monzi sia un ottimo volano anche per le aziende del territorio e quindi credo che le aziende del nostro territorio, le eccellenze, perché poi abbiamo anche delle eccellenze, penso al Chianti, penso alle aziende vitivinicole, possano e debbano fare di questo ambiente della maglia del Poggi Monzi un'ottima sinergia e quindi penso che ci siano delle opportunità inesplorate e inespresse. Credo altresì che continuare a pensare di percorrere e di coltivare il filone MPS sia assolutamente utopico perché conosciamo bene la vicenda del Monte dei Paschi su Siena, ne abbiamo parlato noi miliardi di volte, le colpe, le responsabilità politiche da parte della classe politica dirigente attuale e quindi anche dell'amministrazione occidente sono fortissime, sono stati bruciati tantissimi soldi, sappiamo altresì che tutto quello che è stato fatto in questi anni, l'opera pubblica, che è stato fatto grazie alla partecipazione della partecipazione della fondazione, è venuta meno quella mammella, quella forza che in qualche modo, quella risorsa che permetteva alle amministrazioni di fare e di disfare e quindi anche di mantenere in vita la società sportiva, venendo meno quello è chiaro che ora siamo di fronte a un problema, quindi noi dobbiamo, l'amministrazione, il sindaco, il nuovo sindaco dovrà farsi carico personalmente di trovare lo sponsor, ma secondo me non può essere MPS perché MPS ha già detto di no a tantissime cose, diciamo, anche nel sociale, in altre cose, mi immagino che continuerà a dire di no quindi anche alla società sportiva, per cui secondo me dobbiamo trovare delle sinerglie importanti su settori che non sono stati esplorati, credo però che anche lì le responsabilità della classe dirigente e dell'amministrazione occidente siano assolutamente forti, evidenti e non possono essere sottosciuti. Ok, quindi secondo te c'è abbastanza margine, quindi siamo ottimisti? Sì, io penso di sì. Senti, andiamo verso la conclusione con una cosa che a noi sta particolarmente a cuore, dato che siamo un'associazione e quindi vorrei un attimino un tuo parere sui luoghi di organizzazione di Poggiunzi in generale, è un tema su cui noi battiamo da anni, praticamente da quando siamo nati, al nostro modo di vedere è una mancanza che c'è nella nostra città, quindi mancano dei luoghi dove il grande associazionismo cittadino, Poggiunzi è pienissima di associazioni e da questo punto di vista quasi una città a modello, non hanno, al nostro modo di vedere, grande spazio per le proprie attività. Spesso sono soffocate a questo. Non tutte, quelle che in qualche modo sono più vicine a determinate logiche, a determinati ambienti politici, lo spazio glielo danno, te lo assicuro. Altre magari che non sono, diciamo, culturalmente affini a una determinata logica politica, come quelle sportive, che magari sono in qualche modo accomunate da una passione sincera, come la vostra, per lo sport, ma che non rispondono a logiche politiche, magari vengono tenute un attimo in disparte. Per cui c'è una disparità di trattamento fra le associazioni. L'amministrazione comunale privilegia molto di più l'AMPI rispetto magari all'associazione di Poggiunzi o magari all'associazione Giovanni Insieme Per delle Parrocchie. Perché? Perché sì, perché sono state fatte effette politiche evidenti. Credi che sia solo una questione di questo tipo o che manchino proprio delle strutture anche a livello fisico? Sì, sì, questo per rispondere alla domanda sicuramente mancano. Infatti nel programma, noi abbiamo inserito, lo presenteremo la settimana prossima in un incontro pubblico, abbiamo preso il problema della mancanza degli spazi di aggregazione giovanile. Ci proponiamo di individuare i luoghi di aggregazione giovanile per l'abito anche notturna, perché è evidente che un giovane a Poggiunzi è costretto o ad andare a Firenze o ad andare a Siena o comunque a battere la testa nel muro. Per cui il ragazzo dai 17 ai 26-30 anni si interroga sempre su quello che può fare, perché purtroppo le possibilità sono quelle che sono e sono buone. Quindi sicuramente dovremmo individuare dei luoghi di aggregazione. Lo stadio ritengo che sia nella sua struttura di homogrezza, quindi da ripensare e da modernare, però può essere sicuramente, potenzialmente, un luogo di aggregazione giovanile. Io, portato l'esempio qualche giorno fa del concerto di Vecabue a Colle, è un esempio di come un palazzetto dello sport possa ospitare anche eventi che riamano il grande pubblico. Per cui, perché noi non possiamo organizzare eventi, iniziative e manifestazioni di quel tipo, richiamando anche magari il grande pubblico. Lo stadio potrebbe essere, che è sempre stato visto come una landa desolata, potrebbe essere pensato non soltanto come il luogo che ospita la partita domeniale, una volta sì, una volta no alla settimana, ma anche come eventi di questo tipo. Quindi magari nella domenica in cui il pubblico si è in trasferta, perché no, immaginare anche cose di questo tipo. Dico anche che, come luogo di aggregazione, è proprio la partita stessa, perché richiamano anche persone, e è il momento anche della partita, che è il gioco, è per definizione di aggregazione. Mi riedevo infatti la domanda, e ne faccio una te se permetti, le trasferte del tipo organizzato, secondo me, una squadra a essi rispetti dovrebbe anche essere in qualche modo interessata a sostenere, perché il tipo organizzato che segue la squadra anche nelle trasferte merita, secondo me, anche una sorta di incentivo, però mi sa che ve le pagate tutte le trasferte. Ovviamente, questo per scelta morale. Per scelta morale, questo vi fa onore, sicuramente. Questo vi fa onore, però credo che resti comunque un importante luogo di aggregazione che va valorizzato. Purtroppo, da questo punto di vista, fin oggi non è stato fatto, ci proponiamo di farlo, e lo faremo però non imponendo, andando in qualche modo a dire, facciamo questo, condividendo anche con chi vive queste realtà, come lo stadio, ogni giorno, dedicando anche una parte della propria vita importante a questo tipo di cose. Ecco, io credo che sia la miglior cosa a questo. Quindi un programma anche partecipato e condiviso, e non un'amministrazione, come ha fatto fino a quest'oggi, ha deciso, ha comunicato, senza poi andare a delinare, quelle che sono le volontà dei cittadini, all'interno del territorio della città. Grazie, Francesco. Grazie a voi, grazie e buonasera. Grazie a voi.